sta per finire anche il mese di aprile di questo 2024 dal clima indeciso e altalenante con la primavera che però sembra essere sbocciata e con essa il bel tempo è allora tempo di bilanci in italia così come in molise la nostra piccola e accogliente regione da sempre bistrattata e dirisa fuori dei confini un po per convenienza essendo una piccola realtà che sembra sempre dover rincorrere qualcosa che gli manca per far sì che diventi un'isola felice un po per chi dai dati che emergono a livello nazionale sembrerebbe che i molisani siano sempre gli ultimi in classifica stando a dei parametri prestabiliti da indicatori standardizzati già ma ultimi in cosa un recente articolo apparso sul quotidiano nazionale il sole 24 ore lascia intendere poco alla fantasia e ci getta in una realtà difficile da accettare per noi molisani la verità però come mai in questo caso sta nel mezzo e se è vero che i dati istat sulla speranza di vita in buona salute degli abitanti del molise confrontati con quelli di bolzano ci parlano di un clamoroso divario di circa 12 anni che i molisani sconteranno in anzianità in uno stato di salute poco per nulla ottimale rispetto proprio ai bolzanesi c'è da chiedersi cosa esattamente questo sta a significare bisognerebbe in primis chiarire che i dati istat ai quali ci si riferisce nell'articolo sono del 2023 secondo l'ultima relazione sul benessere eco e sostenibile trasmessa al parlamento rapporto che tiene conto di 12 indicatori chiave contenuti nella legge di bilancio che coprono otto domini ossia il reddito la disuguaglianza la povertà la salute l'istruzione il lavoro l'ambiente e l'efficienza della giustizia civile ed è proprio su uno di questi aspetti che ci si dovrebbe soffermare l'ambiente infatti il molise è una regione longeva non a caso terra di ultracentenari e ne ospita il maggior numero in italia quindi di per sé questo fa pensare a fattori genetici per i quali i molisani sono maggiormente protetti in modo naturale da malattie acute quali gli accidenti cardiovascolari ad esempio che possono stroncare le persone anche in giovane età l'aria pulita e i paesi e le terre incontaminate aiutano sicuramente un processo di invecchiamento sereno e libero da malattie dell'apparato respiratorio da rivedere forse sarebbe lo stile di vita e in effetti ciò che emerge come dato più preoccupante è l'alto tasso di obesità che purtroppo affligge la nostra regione seconda solo alla campania come numero di persone gravemente in sovrappeso in rapporto al numero di abitanti quindi se dovesse esserci un raffronto tra nord e sud che faccia uscire come al solito sconfitto il mezzogiorno questo confronto non regge o quantomeno andrebbe spiegato e non troppo facilmente attribuito all'arretratezza dei servizi pubblici come dall'articolo si vorrebbe far intendere a proposito di quelli sanitari assistenziali ma bisognerebbe piuttosto avere un'idea chiara a livello nazionale che sia coerente con l'immagine dell'italia che noi tutti oggi ci raffiguriamo cioè la nostra patria di tutti noi dalla quale non dovrebbero emergere disuguaglianze interregionali grazie a tutti grazie a tutti